Cosa mangiamo quando fa così caldo? Un'idea può essere preparare dei rotolini di frittata con bresaola, rucola e grana. Una ricetta semplicissima considerate per quattro persone, sei uova, 80 grammi di bresaola, una manciata di foglie di rucola e delle scagliette di grana, chiaramente a piacere. La ricetta è semplicissima, rompiamo le uova, sale e pepe, mischiamo chiaramente, prepariamo una frittata, la mettiamo sulla padella rovente, quella che utilizziamo appunto per le frittate, la rigiriamo un paio di volte e come è pronta la copriamo con le fettine di bresaola. Ci mettiamo sopra la rucola, il grana arrotoliamo bene, arrotoliamo anche bello stretto e poi tagliamo i nostri rotolini, tagliamo questo nostro bello arrotolato e lo portiamo in tavola. È una ricetta semplice, comunque sfiziosa e perfetta quando fa così caldo.